Iniziamo quindi a parlare di quello che riguarda gli investimenti 2019-2021 del nostro comune. Ho fatto la precisazione, la ritorno a dire, queste sono le proposte di questa amministrazione che ovviamente dovrà passare anche dalla prossima tornata elettorale per avere la conferma di quanto detto. Iniziamo col 2019, abbiamo previsto in questo stabile centro Viaggini di andare a sistemare l'impianto antincendio, ho visto che qui passano ragazzi, ragazzini, pensionati, passa di tutto, la biblioteca ovviamente, era importante spendere questi soldi che comunque sono venuti in parte dalla regione Emilia-Romagna e quindi era importante adeguare questo. Poi abbiamo, forse l'avrete già sentito, abbiamo ricevuto un contributo da parte della regione Emilia-Romagna per il nostro teatro, un contributo di 48 mila euro mi sembra, che praticamente ci permetterà di acquistare il proiettore ultimo in forma diciamo così più moderna, più tutto l'impianto sonoro per poter realizzare finalmente ad avere di nuovo il cinema a Rio Saliceto. La restante parte è finanziata con contributi di privati e probabilmente, se tutto va come deve andare, dalla fondazione Manodori di Reggio Emilia. Questo cosa significa? Che entro la fine dell'anno, se vogliamo, se vorremo come io penso, ritorneremo ad avere il cinema a Rio Saliceto. Ma da qui a là passo un po' di tempo e avremo modo di ragionare anche con le associazioni locali e capire se c'è questa volontà col volontariato di poter riprendere di nuovo questa strada, entrare in un circolo, farci aiutare per poter avere anche questa opportunità che va bene per qualsiasi età e noi riteniamo che in un paese come il nostro il cinema sia molto importante, sia molto anche educativo. Io penso alle scuole, penso ai ragazzi, penso anche ai bambini più piccoli, diciamo così, ma penso anche alle persone che hanno anche una certa età e quindi hanno anche, diciamo, fanno anche fatica a muoversi e sappiamo che l'Auser, diciamo, in un periodo dell'anno si rec, grazie all'usilio di volontari, a vedere film in altri cinematografi, probabilmente dal 2019-2020 può dare se questa cosa possa capitare anche a Rio e noi ci contiamo molto. Qui vedete altri 66 mila Euro per il tetto sul teatro, questo è un contributo regionale e i lavori inizieranno al termine della stagione teatrale. Poi abbiamo richiesto al Ministero dell'Interno, grazie a una legge che poteva consentire questo ai comuni, un contributo di 500 mila Euro per la sicurezza, direi, strutturale e definitiva di Via Bondione e Via San Pietro. Aspettavamo la risposta, come ho detto prima, la risposta è arrivata la scorsa settimana, questi soldi non ce li danno e quindi ritorneremo a fare la domanda più avanti, ma per una questione di bilancio questi vanno inseriti lo stesso e quindi figureranno delle cifre alte, ma qui sappiamo già che non possiamo contare su questo. Poi abbiamo altre spese che riguardano la palestra, gli infissi delle scuole. Questi 70 mila Euro che voi vedete qua sono quelli che l'attuale governo, e l'attuale governo e precisamente il Ministro Salvini tiene a questa cosa in particolare, perché giustamente ha mandato una circolare a tutti i comuni dicendo io ti do i soldi a fondo perduto, ma tu lo devi dire pubblicamente, perché questi sono soldi che ti diamo noi, diciamo in questo modo. Noi non abbiamo nessuna difficoltà, ovviamente, indipendentemente dall'idea politica che può avere uno o l'altro, però i fondi ha contributo e quindi in questo modo ovviamente sono sempre ben accetti e sembra anche che vengano rifinanziati per il prossimo anno. A Rio Sericeto sono arrivati 70 mila Euro. Noi volevamo destinarli alla sicurezza delle strade, perché abbiamo diverse problematiche nelle quelle strade, ma proprio un mese fa si è rotta la caldaia della palestra comunale e quindi 57 mila Euro di questi 70 mila andranno solo per mettere a posto la caldaia nella palestra comunale, per cui gli altri 13 mila andranno invece per gli infissi delle scuole. Inizieremo i lavori per l'installazione del condizionamento in municipio perché non esiste e quindi nell'ambiente di lavoro durante la stagione più calda si lavora veramente molto male e quindi quest'anno inizieremo i lavori per avere un minimo di raffrescamento. Poi inizieremo anche, credo fra un paio di mesi, se tutto va bene, i lavori di restauro sui fronti esterni del cimitero comunale. Voi sapete che questa è una parte, l'altra parte è quella che guarda l'isola ecologica, sono due situazioni veramente, direi, drammatiche, molto brutte, che non si addicono a un cimitero monumentale come il nostro, che è una delle strutture più vecchie del nostro comune perché è di fine 1800. Quindi grazie anche all'avanzo di amministrazioni che abbiamo ottenuto nel 2017 siamo riusciti a destinare questi 47 mila euro per cui quando ripartiremo con i lavori metteremo a posto proprio i due fronti così anche dall'esterno finalmente il cimitero potrà essere decoroso. Poi di questo sono certo che avete già sentito parlare, realizzeremo due rotatorie, la prima in centro via Garibaldi via Martiri, la seconda invece vicino all'officina Lusetti proprio dove c'è l'incrocio che porta a San Rodovico, il totale di queste due rotatorie è stimato intorno ai 30 mila euro. Questi lavori inizieranno sicuramente nell'estate, adesso no. Bene, poi abbiamo sempre nel 2019 lavori di manutenzione straordinaria nei fabbricati comunali. La foto qui riguarda le scuole, ma i fabbricati comunali sono il Biagini, il Delfino, il Comune e altri, la scuola. Insomma, quindi riguardano tutto. Comunque questi 40 mila sono a disposizione per i lavori di manutenzione straordinaria ai fabbricati. Poi quest'autunno, non prima, finalmente siamo riusciti a trovare l'accordo con il Comune di Correggio e realizzeremo la ciclo pedonale che praticamente Dario Sariceto va nell'abitato di Mandrio. Andremo a realizzare una pedonale non asfaltata, ma comunque con sterrato, con un particolare compattato di un certo tipo in modo tale da arrivare fino all'inizio, diciamo così, all'incrocio con la pista ciclabile che collega Mandrio a Correggio. E questo sicuramente per i pedoni e per i ciclisti sarà un bellissimo risultato perché questa strada ogni giorno viene transitata da circa 1.400-1.500 autoveicoli, una strada così stretta. Quindi veramente un'esagerazione. Per cui il Comune di Rio ha deciso all'unanimità, anche se il territorio non è di Rio Sariceto perché i lavori vengono eseguiti proprio dal confine di Rio in avanti, di contribuire lo stesso insieme al Comune di Correggio e al Consorzio di Bonifica delle Miglie Centrale. Questo perché? Perché da qui passa tanta gente di Rio Sariceto e quindi noi ritenevamo giusto che fosse così. Però questi lavori inizieranno solo dopo l'autunno. Poi abbiamo vari lavori di manutenzione di manti stradali, asfalti. Ecco, questo voglio fare una precisazione. Noi ogni anno dal 19 al 21 il massimo che possiamo destinare per gli asfalti sono circa 70.000 euro. Se pensate che l'IVA è il 22%, le spese tecniche è il 10% di questo importo, a noi rimangono dai 45 ai 50.000 euro per asfaltare, per mantenere le strade a Rio Sariceto. Voi capite che si può fare ben poco. Quindi io ascolto, qualche volta leggo anche commenti coloriti su quello che è la manutenzione delle strade, o quello che bisogna fare. Io sono d'accordissimo con le persone che hanno giustamente le loro rimostranze, però io vorrei anche dire che noi dobbiamo fare delle scelte. Con questi pochi soldi che abbiamo dobbiamo dare delle priorità. E le priorità una volta metti a posto una cosa, una volta le metti a posto l'altra, ma non metti mai a posto tutto. Perché queste al massimo sono le cifre sulle quali noi possiamo considerare. E questo è veramente, non è niente, è meno di niente. Però ovviamente facciamo quello che possiamo. Poi sempre nel 2019, proseguiremo i lavori all'interno del cimitero. Forse avete già visto che si sta lavorando all'interno, dove prima abbiamo messo a posto la copertura. Adesso viene fatta un'opera di stuccature, poi di ritinteggiatura dei due fronti che sono ai lati. E poi ci sono i loculi che stanno, siamo in fase di ultimazione. Io sinceramente spero che entro il 25 aprile di aver finito tutto. Siamo sempre nel 2019, un'altra opera importante è quella delle piste ciclabili nel centro del paese. Praticamente è un perimetro che comprende via Martiri, via Nicolini, via 4 Novembre, via 20 Settembre, piazza Carducci. Poi presenteremo anche il progetto ufficialmente alla cittadinanza, dove vogliamo che la gente il più possibile vada in bicicletta. Perché la gente vada in bicicletta dobbiamo realizzare le piste ciclabili. Abbiamo ottenuto un finanziamento da Regione Emilia-Romagna di circa 146 mila euro. Gli altri soldi sono nostri con la vendita di un lotto di terreno. Quindi questi lavori penso che partiranno anche qui tra luglio e settembre. Per cui avremo del disagio in paese sicuramente perché andremo a lavorare su delle strade principali. Però alla fine potremo avere un percorso, un perimetro che serve sia per i bambini che vanno a scuola, serve sia per gli anziani, per chi va in bicicletta. Io dico anche, e sono sempre di più purtroppo, le persone che hanno problemi anche di mobilità e hanno bisogno del deambulante anche per poter girare in paese. Noi non ci pensiamo mai queste cose, ci pensiamo quando c'è il problema o magari se non abbiamo il problema non ci pensiamo. Però vi garantisco anche dagli ultimi dati che le persone con questi problemi purtroppo sono in aumento. Quindi questo è un segno secondo me anche di civiltà, un segno anche di correttezza nei confronti non soltanto delle persone con qualche disabilità o difficoltà ma è un segnale anche di andare incontro alla nostra salute. Come avete visto in questi ultimi giorni anche della manifestazione fatta a venerdì dagli studenti noi siamo nella regione più inquinata d'Europa. L'Emilia Romagna, la pianura padana, è la più inquinata d'Europa. Quindi dobbiamo cominciare a prendere le contromisure perché se noi non iniziamo a andare maggiormente a piedi o in bicicletta o usare almeno la macchina, noi ci lasciamo le pelle perché i nostri polmoni non possono durare all'infinito. Io dico sempre, se ci fossero, nel tubo di scappamento, qui abbiamo un ex meccanico, me lo può confermare, ma se fosse colorato il gas che esce dal tubo di scappamento anziché trasparente che non vede niente nessuno, noi ci accorgeremmo che siamo in una camera a gas perché questo fumo evapora e quindi sarebbe veramente un disastro. Specialmente, e questo è un paradosso, davanti alle scuole, negli orari quando si vanno a prendere i ragazzi e i ragazzini perché lì è veramente il disastro e noi cercheremo, prenderemo anche degli scocciatori, faremo tutto quello che è nel nostro possesso, ma cercheremo di convincere i genitori di questi figli che per il bene suo e anche dei loro figli sarebbe meglio usare altri mezzi per andare a scuola. I 175 mila Euro per la messa in sicurezza del Biagini e i 490 mila Euro per i lavori al Delfino fanno sempre parte di quella richiesta che abbiamo chiesto al Ministero dell'Interno che ci ha detto no. Quindi questo 1.165.000 che noi abbiamo richiesto per il 2019 non l'avremo, per cui però, ripeto, a bilancio contabilmente va scritto. Sala sovracomunale protezione civile al centro sociale, non vorrei aprire l'argomento del centro sociale perché non riguarda il bilancio, posso solo dire che le cose stanno andando per il verso giusto negli ultimi giorni proprio e quindi quando ripartiranno i lavori al primo piano verrà realizzata una sala sovracomunale per la protezione civile, in caso di calamità la protezione avrà due sale dove poter dirigere le operazioni in caso, ripeto, di calamità e speriamo che non ne abbiano bisogno. Queste due sale ovviamente sono a disposizione anche della collettività nel momento in cui la protezione magari non le usa oppure ritiene di non utilizzarle. Poi abbiamo in previsione lavori di riqualificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via libertà, sono solo 50 anni che non ci andiamo attorno a questi alloggi e se li conoscete sicuramente in questa via stretta che va con la strada chiusa, è il primo dei due alloggi che sono quasi simili, hanno bisogno veramente di una ristrutturazione perché sono veramente vecchi e c'è bisogno di metterli a posto, questa è una cosa che dovremmo fare. Quindi nel 2019 se noi togliamo il 1.165.000 che il Ministero non ci dà, noi abbiamo investimenti per 1 milione di Euro, quindi nonostante la poca disponibilità che abbiamo nel 2019 noi comunque spenderemo 1 milione di Euro, però se noi aggiungiamo altri lavori che riguardano il 2018 ma che comunque faremo nel 2019, aggiungiamo altri 470.000 Euro che sono il completamento che inizierà a giorni di via Griminella praticamente nell'area di proprietà della famiglia Bassoli che grazie a un accordo col Comune hanno ceduto gratuitamente per poter fare questo piccolo tragitto che arriva al confine di Rio Saliceto, poi c'è il lavoro di prima che vi ho detto via Griminella e ci collegheremo a Mandrio, a Correggio eccetera eccetera, questi sono lavori che inizieranno a breve. Poi avremo i lavori al parco Giacomo Olivi, quindi il parco comunale dove metteremo a posto i giochi, metteremo i giochi in sicurezza, metteremo delle telecamere che oggi non ci sono, guarderemo l'illuminazione e poi andremo anche alla potatura delle piante più pericolose e anche alla sostituzione di alcune panchine. Questo è un bando regionale, Rio Saliceto e Correggio sono i primi due comuni nella regione Emilia Romagna ad usufruire di questa opportunità e questa è un'altra cosa che ci offre la nostra regione Emilia Romagna. A giugno inizieremo dei lavori importanti nella nostra palestra comunale per 380 mila Euro, anche qui contributo regionale più quota di avanzo e quindi creeremo un ulteriore nuovo spogliatoio, metteremo a posto gli infissi esterni e poi faremo altre opere per rendere più funzionale e con minori consumi la nostra palestra. Questi lavori inizieranno i primi di giugno e termineranno probabilmente entro la fine di ottobre, però in questo modo la nostra palestra finalmente prende una bellissima risanata e un consolidamento non indifferente, ma soprattutto dal punto di vista energetico consumerà molto di meno e questa conta, come diceva prima l'assessore, per le spese correnti meno spendiamo di utenze e più risorse abbiamo per fare altre cose. Questi sono lavori che noi abbiamo già fatto, 10 mila Euro per potenziamento della videosorveglianza comunale, abbiamo inserito 8 telecamere all'interno del paese di Rosariceto, io uso questa cosa poi magari può darsi che sbagli, ma io non voglio mai dire dove vanno le telecamere, dove le piazziamo, io non voglio dare dei vantaggi a chi delinque o chi magari ha male intenzionati, per cui le telecamere le abbiamo messe, ne metteremo delle altre, non diciamo dove sono e queste poi le andiamo a vedere noi nel momento in cui ci saranno, speriamo di no, dei disagi oppure degli atti vandalici come purtroppo ogni tanto capita, però sappiate che ci sono e quindi nel caso dovesse capitare qualcosa possiamo andarle a vedere. Bene, questo comunque è il 2019 per ricapitolare tutto, 1 milione e 479 mila Euro, 2019. Bene, siamo al 2020, abbiamo un anno in più, il prossimo anno cos'è che abbiamo previsto? La ristrutturazione degli spogliatoi, gli spogliatoi abbiamo alcuni che sono stati eseguiti nel 1985, ristrutturati e gli altri invece mi sembra 1995 se non sbaglio, più o meno, quindi ormai sono già più di 30, quasi 40 anni che non sono sistemati gli spogliatoi, anche qui abbiamo i casi di consumi enormi di acqua, di luce, di gas e tutto questo, per cui una ristrutturazione di questo genere sicuramente agevolerà questi fabbricati e siccome sono molto utilizzati pensiamo di fare anche l'investimento giusto per tutti i ragazzi, ragazzini e adulti che ovviamente usano l'impianto sportivo. Adegueremo la sala consigliare da renderla più consona a quale che sono le funzioni oggi, i consiglieri sono calati, certe strutture vanno un po' rimessi a posto, anche qui illuminazione, microfoni, tutta una serie di cose per cercare di adeguare meglio. Poi metteremo a posto anche gli uffici all'interno del nostro comune che nel 2019 compierà 130 anni, il 23 di ottobre, 130 anni faremo qualcosa in paese proprio per questo anniversario e poi finalmente faremo anche una sala per gli studenti universitari, spenderemo intorno circa 20 mila euro, questa è una richiesta che è da tanto che c'è, che molti ragazzi diciamo così di età, ovviamente che hanno finito le scuole secondarie superiori che vanno all'università, non trovano spazio nel loro paese per poter studiare in un luogo più tranquillo, più consono quelle che le loro richieste. Per noi era, secondo noi riteniamo giusto e doveroso andare incontro anche a questi ragazzi che vogliono studiare in pace, con calma, anche con strumenti adeguati, per cui credo che sia venuto il momento che Rio possa andare incontro a queste esigenze e questo sarà al Biagini. Sempre nel 2020, come vedete, abbiamo i soliti 70 mila che, dedotta l'IVA, dedotta le spese tecniche, diventano 50 mila, 50 mila si fa poco, però comunque ci sono anche nel 2020, sempre la manutenzione ai fabbricati, sempre ugualmente continueremo il cimitero comunale a fare ulteriore opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e poi avremo due opere importanti sulla strada provinciale 30 che è la Carpi-Guastalla. Voi che siete di Rio sapete bene quelli che sono i problemi, se voi uscite da via Fossatelli e vi mettete sulla Carpi-Guastalla è sempre un problema, attraversare quella strada lì in quell'incrocio è molto pericoloso. Quindi andremo a rimodulare quell'incrocio lì che si trova tra la Cermac e la Marplast, in questo modo da poter favorire l'ingresso e l'uscita dei camion, delle auto e anche delle persone che attraversano per andare come d'abitudine anche a fare un viaggetto a piedi lungo via Fossatelli Nord. Poi l'altro intervento importante sarà in via Balduina, dove c'è il ponte cosiddetto ponte di ferro, lì realizzeremo una rotatoria, siamo già d'accordo con la provincia, con entrambi questi luoghi, rotatoria via Balduina e incrocio di via Fossatelli, il Comune di Rosericeto metterà il 50% di questa cifra, l'altro 50% sarà messo dalla provincia di Reggio Emilia. Questo è un lavoro che vedrà la luce nel 2020. C'è un terzo progetto che noi non abbiamo scritto qua e che comunque fa parte dell'accordo con la provincia che è già stato siglato e si tratta della ciclabile Rio Cadefrati, ma Rio Saliceto, cassa di espansione del Tresinaro, sono circa 6-7 chilometri dove la provincia col consorzio di bonifica oggi stanno lavorando attorno al progetto di fattibilità. Non vuol dire che verrà fatta, però sarà fatto il progetto, sarà valutato, si vedrà anche se ovviamente il finanziamento è possibile, ma una volta se effettivamente riusciremo a ottenere questo, da Rio Saliceto potremmo andare fino all'osi faunistica o cassa di espansione, chiamatela come volete e sono 6 chilometri che a piedi in bicicletta sicuramente sarà più agevole anche attraversare l'abitato e forse magari utilizzare o vivere di più anche la frazione di Cadefrati per la quale poi verrà messa apposta anche la chiesa, credo quest'anno o massimo il prossimo anno. Quindi insomma è anche questa cosa interessa. Tengo a precisare che l'arrivo alla cassa di espansione non è un arrivo così, fatto perché vogliamo arrivare lì. Vogliamo arrivare lì perché? Perché lì c'è una sede di un'associazione che si chiama I Grilli, dove c'è un ambiente che ha una cucina, ha una sala, ha un forno per fare la pizza, ha un ambiente grande per poter parcheggiare o anche per arrivarci, quindi stare anche all'aria aperta. Noi in questo modo vorremmo anche stimolare proprio quelle gite o quelle cose che si fanno anche al sabato o la domenica oppure anche durante la settimana da poter trovare un luogo anche di sollievo, di socialità, di coesione sociale che vada bene anche per la nostra comunità perché queste cose aiutano molto anche a stare insieme ed agevolare anche quelle che noi chiamiamo la coesione sociale. Per questo diciamo conoscendoci e divertendoci anche insieme sicuramente si favorisce il dialogo ed è sempre meglio chi chiude e si rintanarsi soltanto dentro la propria casa. Ma questo non l'abbiamo messo e vedremo in futuro. 2020 siamo calati, siamo quindi a un investimento totale di 595 mila Euro, però nel corso del 2020 come io prevedo sicuramente usciranno bandi, usciranno contributi magari da intercettare, magari forse anche delle idee da parte della nuova amministrazione e questa è una cifra che sicuramente aumenterà. Siamo al 2021, nel 2021 l'opera, più grande che avremo risaliceto sarà quella che avete lì in alto, la piazza. Allora sulla piazza è stato presentato un progetto, è stato presentato la cittadinanza, è stato valutato anche dal punto di vista virtuale con un referendum anche sul nostro sito. Devo dire che è andato tutto molto bene, è piaciuta a tanti, la maggioranza veramente di voi cittadini ha detto che questo è un lavoro che può piacere. Questo lavoro però non costa poco, perché costa 800 mila Euro questo lavoro qua, ma questo contributo non sarà a carico totale dei cittadini di Rio, ma sarà per il 70% a carico della regione Emilia-Romagna. Il resto invece lo deve mettere il Comune di Rio Saliceto. Noi riteniamo per il discorso che facevamo prima della mobilità sostenibile, del fatto che sarebbe meglio stare più insieme, in paese, a piedi, in compagnia, sicuramente oggi Rio non ha la piazza, questo è il modo per ritornare a avere la piazza di Rio Saliceto. Oggi Rio Saliceto ha un parcheggio e la piazza è il centro del paese, non può essere solo un parcheggio. Quindi forse anche per questo la gente ha dato il proprio consenso, perché c'è proprio bisogno di questa cosa. Quindi nel 2021 se la regione confermerà il finanziamento e se un adeguamento del progetto che prevediamo già di fare andrà avanti, noi inizieremo i lavori di soprattutto ripavimentazione della piazza con qualche adeguamento sulle sedute, sui parcheggi, su quello che è la nostra piazza Carducci, con una parte pedonale che sarà quella vicino alle scuole, almeno così oggi è il progetto, l'altra parte invece non è pedonale ma la parte dove le macchine parcheggeranno. La domanda di tutti è quanti posti perdiamo? In questo modo saranno più o meno, abbiamo valutato, circa 30 posti auto che possono venire a mancare. Però andremo a liberalizzare il parcheggio dietro il comune, forse allargarlo anche un po', adesso vediamo. Abbiamo il parcheggio in via Garibaldi fino a quando ce l'avremo e poi forse abbiamo anche qualche altra novità ancora che adesso è ancora prematura ma comunque qualche posto lo riguadagniamo ancora. Ma non è quello che voglio dirvi stasera che magari spero che possiate dirlo anche ai vostri amici e quando li ritrovate domani, dopodomani così, non è il discorso della mancanza dei parcheggi, è la mentalità che deve cambiare perché non si dice che ce ne sono 30 in meno e devo andare a trovare 30 posti, no no, non è così, ne mancano 30 e bisogna che facciamo con 30 in meno, perché se no la nostra area che respiriamo è sempre più malata e fa sempre più male a noi, quindi dobbiamo cercare di cambiare un po' le nostre abitudini. Poi spenderemo altri 150 mila euro per l'illuminazione pubblica, avete già visto che in alcune vie abbiamo già fatto dei lavori e quindi nel 2021 avremo la capacità finanziaria per poter andare a inserire le luci a LED anche in altre posizioni del paese, i lavori che non possono mancare il cimitero comunale perché noi diciamo che al 2021 abbiamo sistemato il cimitero, quindi con alcuni anni di lavoro e con i finanziamenti così limitati proprio, quasi col contagocci direi, ma comunque arriviamo a sistemare decorosamente tutto il cimitero. Poi abbiamo i soliti 70 mila euro che avete già visto prima dei lavori di viabilità, sperando che diventino anche di più. Sempre nel 2021 abbiamo la manutenzione sempre dei fabbricati comunali, quindi staremo a vedere dove sarà necessario, sulla palestra andremo a incrementare i posti che sono oggi la capienza utile e disponibile e quindi aumentando la possibilità del numero di spettatori sulle tribune perché oggi è molto limitato e quindi dopo con il nuovo investimento la capacità diventerà sicuramente più ampia. La capacità totale è di circa 250 posti, oggi non possiamo oltrepassare i 100 posti a sedere. Poi abbiamo, questa è una scommessa ed è forse la cosa di tutte quelle che vi ho presentato, quella con un punto interrogativo, però abbiamo già il progetto, abbiamo già fatto degli studi, abbiamo secondo noi buone possibilità di poterlo fare, si tratta di realizzare un parco inclusivo nel parco di Via Elsa Morante. Cosa significa parco inclusivo? Significa che ad esempio l'area dedicata ai giochi per i bambini saranno tutti giochi dove potranno giocare bambini normodotati, quindi senza problemi e bambini anche che hanno disabilità. Poi inclusivo significa che ci possono essere percorsi attrezzati anche per anziani. Oggi stiamo tutti bene, camminiamo, corriamo, ci divertiamo, però domani non sarà così, sicuramente. Ahimè, purtroppo la vita è questa e quindi dovremo pensare a creare ugualmente dei luoghi dove poter fare l'esercizio fisico, dove passare anche il pomeriggio, dove poter fare qualcosa anche insieme ai propri figli oppure i nipoti, e queste cose qua. E quindi questo può venire in aiuto. Poi uno spazio all'aperto, abbiamo identificato un anfiteatro all'aperto per poter fare il cinema, per poter fare gli spettacoli, per poter dare la possibilità anche a chi vuole fare dello spettacolo o delle cose di un certo tipo all'aperto, senza problemi di permessi, perché ovviamente oggi diventa sempre difficile, o meglio, la possibilità di essere così in un'area talmente vasta e fruibile che non ci sono quelle restrizioni che fare delle cose all'interno di una piazza o di un parco stretto come è il nostro parco comunale. E poi altre cose che possono avvenire sempre nel parco. Questo progetto lo presenteremo più avanti, il totale del progetto sono circa 600 mila euro oggi, noi abbiamo previsto di realizzare nel 2021 una prima parte che vale circa 300 mila euro. Nel corso degli anni poi vediamo se in effetti è così oppure cambierà qualcosa. Totale di investimento nel 2021 1.478.000. Quindi, ricapitolando, il totale degli investimenti nei tre anni sono 4.239.000 più i 478.000 che eseguiamo già quest'anno nel corso del 2019. Alla fine dobbiamo togliere il 1.165.000, togliendo il 1.165.000 noi arriviamo a circa 3.600.000 di investimenti nei tre anni con i dati di oggi, poi magari, ripeto, nei prossimi mesi o nel prossimo anno si possono aprire nuove opportunità e quindi la cifra potrebbe andare ancora più su. Io personalmente spero veramente di ottenere più finanziamenti, avere più contributi per le strade, perché noi abbiamo bisogno di sistemare le nostre strade. Quindi, dal 19 al 21, questa è la cifra. È una cifra molto alta, però, insomma, ambiziosa, ma questo è quanto. Se c'è poco, grazie. Ci abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo pensato, abbiamo studiato, abbiamo cercato di limare dove la limavele, c'è anche le idee nuove, ma sicuramente ci sarà occasione per poter parlare in futuro anche di questo.